Yu-Gi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, oggi abbiamo un altro lotto da aprire. E' più piccolo, ma ha una storia particolare. Ora vi racconto. Ma prima di tutto vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Magic Corner, quindi se vi serve prodotto sigillato o carte singole trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. In più, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, forse Will o Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Scrivetemi e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Allora, partiamo dal principio. Io questo lotto non l'ho pagato. In che senso? L'ho ricevuto gratis? L'ho rubato? Sarebbe stato bello? Ma no. Praticamente mi è stato venduto, ma diciamo nel pratico non è che abbia fatto un'offerta nello specifico. Adesso che è mano mia dovrò aprirlo, valutare le carte e poi dare la cifra consola al tipo che me l'ha venduta. Ovviamente lui è al corrente di quanto avrei elevato dal prezzo di Car Market, quindi adesso io andrei con la pagina. Allora, ovviamente con l'andare avanti delle carte andremo a vedere anche i prezzi su Car Market per farci un'idea di quant'è il totale. Spero di non rovina niente, altrimenti c'è da piange. No, un altro team. Che palle, che palle, che palle. O è pieno di common o è pieno di robogona. Quello che mi urta di più è che di tine ne ho ancora tantissime a casa e non riesco a liberarmene. Più ne do via, più me ne arrivano. E che cazzo, che bello. Altra plastica che ucciderà i delfini. Diciamo che uccideremo l'ambiente e tutti gli alberi, andando avanti così. Io adesso andrei con il primo pacchetto e vediamo cosa c'è dentro. Diciamo che ci dovrebbe essere un mix di robe tra Pokémon e Yugi. Quindi vedremo anche qualcosina del gioco più costoso e sopravvalutato del mondo. Allora, ho visto qualcosina di danger. Abbiamo, sì, la roba dello structure. Allora, abbiamo praticamente, credo, non so se l'1x o il 3x dello structure. Ok. Questo penso sia il primo. Sì, manca la skill drain, quindi probabilmente quella se l'è tenuta. Sì, anche qualche danger, eh. Però vabbè, Bigfoot c'è, su Chinoco c'è, quindi a posto. Andiamo col secondo, che questo era poco interessante. Questo cazzo di coltellino che è pieno di terra. E io con questo ci apri i pacchi. Mamma mia, che disastro. A posto. Qua potremmo avere roba un pochino più interessante, secondo me, eh. Abbiamo roba da MP22. Sì, sium. Ecco, roba spada anima, drago fantasma, occhi diversi che questo non è male. Ho visto che si può giocare in Infernity con i supporti nuovi. Insieme mi sembra anche questo. No, no, era un altro. Era 0 qualcosa. Allora. Poi abbiamo G Golem invalido. Poi alta velocità Kedam. Vediamo in che condizioni è. Ovviamente non andremo a cercare il prezzo di questa roba, che tanto sta a centesimi. Quindi non c'ha neanche senso. Poi due Fafnir da MP. Altra roba virtual e ninja. Come se ce l'avessi poca. Sì, sì. Roba ninja. Mitsu. Penso la carta più brutta del mondo. Non è manco bella come waifu. E poi... Disastro, perché non c'è niente. Incrocio doppio sprite. Roba Flanderese. E altre super d'MP. Voglio piangere. Spero che almeno nell'ultimo pacco e nel pacchetto dopo ci sia qualcosa... qualcosa di buono. Perché è veramente... Attualmente è un lotto vergognoso. Qua vedo dei top loader. Uuuuh. È uscito qualcosa di interessante. Bene. Abbiamo questo New V-Max. Che se non sbaglio dovrebbe stare sui 90€. Se può di niente male. Perché in inglese sta ben 80€. Confido sia un bel NM. Vediamo le condizioni perché ha anche un'alternative art. Se vola, bella pulita. Poi è molto bellina come carta. Anche se non vado matto per le V-Max. Tanta roba. Anche la rarità. Diciamo che la sto rivalutando, eh. Mi ricordano le collector di Yugi. Però c'hanno qualcosina in più. C'è posto sta. Buona. 80€. Easy. Poi abbiamo questo in giapponese. Che non credo sia niente. Poi un Jolteon V-Max. Anche questo alternative art. Tocca contro là quanto sta. Perché secondo me almeno una ventina. Oh, non c'è credo. Veramente c'ho il prezzario in testa. Sta a 23. Questa è in inglese. Tocca. Se vola anche questo. Poi abbiamo un'altra carta di Pokémon. Urshifu V-Max. Credo anche questa sia alternativa art. Infatti questa carta sta a 8. Diciamo che... Pensavo qualcosina di più, però... Vabbè. Oh. Andiamo alla prossima e spero sia Yugi. No. Abbiamo... Ah, ok. Abbiamo anche altra roba. Ok. Ah, abbiamo anche questo... Sentiscorch. Che mi sa che questo potrebbe stare a qualcosina. Allora, vediamo questo Sentiscorch V-Max. Questo è 10, dai. Vabbè. Abbiamo 7 euro de carta. Poi vabbè, questi giapponesi. Dopo farò un forfettario e vedrò quanto valutarle. Stessa cosa a lui. C'è questo Perserk. Vediamo quanto sta perché c'è un ragazzino al circolo tennis dove io faccio lezione. Che colleziona Pokémon. E mi aveva chiesto una... No, una Gigamax. Mi aveva chiesto una... Eh, forse una V-Max o una V o una roba simile. E nel caso, se non sta niente, gli regalo questa. Tanto così. Allora, come carta è veramente brutta, però... Infatti non so, manca un cazzo. Però, devo ammettere che il modello de Sugimori, quello è bellino. Allora, passiamo adesso alla roba più interessante. Abbiamo... Ho solo roba di Yu-Gi adesso. E qua... Tocca al maestro. Allora, vediamo cosa c'è. All'interno abbiamo una coperta. E questa. Abbiamo qua... Due uomo falena. Che forse stanno a qualcosa. E non me lo ricordo più. Perché qualcosa era salito di Danger. E vediamo. Da Sofu. Beh, dai, qualcosina sta. Però un eurino l'uno, dai, li valgono. Poi abbiamo questa che è... Il terzo uomo falena. In inglese. Che sta a... Sempre un euro. Poi... Eh no, facciamo così. Sennò me le spoilerò tutte. Quanto cazzo è figa? Porca troia. Excalibur. E questa, non so se l'avete visto. Il ragazzo che mi ha inviato il lotto, aveva fatto un live su Twitch. Aprendo pacchetti di Red, Wabir. E ha fatto schifo. Ha fatto veramente schifo di quanta roba ha trovato. Vi lascio il link del suo Twitch che ho sotto in descrizione. Visto che mi ha inviato le carte. E questa è una delle robe che aveva tirato fuori. Mamma mia. Questa dovrebbe essere perfetta. Perché questa è stata sbustata e messa dentro. Peccato che è in seconda, ma... Vabbè. Nel senso, apri Redu nel 2022. No, il 2023. È un po'... un po' così, eh. Allora. Solo gli americani fanno le opening vintage. Qua in Italia siamo troppo poveri. Allora. Apriamo. Un altro pack. E vediamo cosa riusciamo a tirare fuori da qua. Ah, aspettate. Non vi ho fatto vedere Excalibur quanto sta. Sta poco. Sta a 25 euro. Però. Nel dubbio. Io non me ne prego, eh. Assolutamente. Comunque. Allora. Continuiamo con l'unboxing. E vediamo qua cosa abbiamo. Abbiamo un Atlantis e un altro Atlantis. Tutte e due secret. Tutte e due sbustate da quel pezzo di merda che mi ha venduto all'otto. Mamma mia, quanto sono belle. Sono carte incredibili con l'anomalia. Guarda che... No, ragazzi. Che colori. E ovviamente sono perfette. Ci hanno qualche punto bianco, ma sono pacchi di Redu. Nel senso, sono stati sballottati a destra e a sinistra. Non ci hanno un graffio, eh. Questa è tutta roba che c'aveva... Cioè, che normalmente tenevano i bambini negli album senza sleeves. Quindi, se le comprate su un market, sono tutte piene dei graffi. Ovviamente questa schifosissima carta sta a 11 euro CAD. Giusto. Andiamo avanti. Abbiamo Red Eyes, Black Dragon. Vediamo qua cosa tiriamo fuori. Abbiamo, vabbè. Old Red Eyes e basta. Di qua abbiamo invece un altro Cronomalia Atlantis. Perché ne aveva sboostati 3 o 4. Una roba del genere. Quindi, più 11 e... Il Red Eyes a quanto cazzo sta? Controlliamo. Allora, questo bellissimo drago che ne uscivano tipo uno ogni non si sa quanti case. Sta a 6,50 euro. Grande. Vedo che il mercato ha capito benissimo come muoversi. Allora, andiamo poi con la carta più bella del mondo. Sfortunatamente in seconda. Insieme anche un bel robottone galattico. Allora, vediamo a quanto stanno. Perché qua c'è Robina che costa, eh. Ovviamente non parlo del robottone galattico, ma parlo dello Tsuchinoko. Allora, questo bellissimo Tsuchinoko con un puntino bianco, ma comunque è la carta più bella dei Yugi. Allora, Tsuchinoko sta alla bellissima cifra dei 17 euro. In prima, però vabbè. Tu 17, porca troia. E il robottone enorme gigante galattico sta a effettivamente 2 euro. Carta di merda che nessuno vuole e che nessuno è disposto a pagare, anche se è NM ed è stata appena sbustata. Abbiamo poi un paio di sei bestia. Uno e due. Ah, voglio morì, porca troia. Oh, se cazzo di chiusure con lo scotch. Allora, abbiamo questo Psy Bestia che è in condizioni NM-. Dai, comunque sta carta stava a 10 centesimi. È salita a 10 euro. Tutte e due belle, eh. Massimo NM- però, sti cazzi. Io te si schifi. No, ho venduto tipo 6 a 10 euro l'uno. Psy Bestia. Monostampa rara. 9 euro. Porca troia. Più 18. Andiamo con l'ultimo pacchettino che ha Drago di Berlione, Occhi Diversi e Gandiva. Tutte e due sbustate. Che stanno effettivamente a Gandiva, credo, 0. Perché poi è ultra. Infatti sta a 1 euro. Mentre il Drago di Berlione dovrebbe essere poi stato reprintato. Cioè 6.800 sul market. Costa la bellissima cifra di 3,25 euro in inglese ma il nostro è fucking in italiano. Sta a 4 euro, cazzo. Non pensavo. E per concludere adesso abbiamo l'ultimo pacchettino che mi è arrivato oggi, sempre da lui, che era l'ultima parte dell'otto. Dove ci sono? Eh, 3 heraldini che diciamo hanno visto tempi migliori. Ah, apriamo. E Diviner. Da pacca. E vediamo effettivamente a quanto sta. Io, ragazze che mi hanno dato l'otto, gliel'avevo detto. Non te li comprare i diviner che tanto li riprintano. Lui mi ha detto, eh, no, ma fidate che se non ce so questi salgono. Ok. Va bene. Abbiamo i 3 heraldini. Messi anche relativamente bene. Che sta a 2 euro l'uno. Quindi più 6. E infine abbiamo questi bellissimi diviner. Che da come ho capito non so NM. Allora, il front sembra bello di tutti e tre. Il back un po' meno. Eh, porca troia. Quanto mi urta ste cose. Uno è good, uno è ex NM. Adesso vediamo quanto stanno. Per valutare bene. Allora, divinerice. Credo non stiano a poco. Perché anche quelli da MP costano un po'. Allora, allora. Io farei, nel dubbio, 1 a 8, 1 a 12, perché mi sembrava NM, e 1 a 6, perché c'ha un angolo praticamente andato. Che su questo, ragazzi, tutto il lotto vale 260 euro. Famo 270, perché ci sono delle carte in giapponese che qualcosina potrebbero valere. Indicativamente. Quindi, ragazzi, adesso sorge la domanda. Quanto devo pagarlo? Fatemi sapere qua sotto con un commento, secondo voi, che cifra dovrei dare al ragazzo? E anche la motivazione sul perché dovrei dare quella cifra. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ovviamente per aver visto il video, per aver commentato, per aver lasciato un mi piace. Quindi, ragazzi, statemi easy. E noi ci rivediamo mercoledì, sempre qua, con il podcast. Ciao a tutti.